Due gentili su Rimoco Non mi vengono in mente perché ce ne sono tanti Perché le due Pantera che preferisce? La... Santarelli Santarelli? Due Santarelli L'Affare e la De Gennaro Le Pissine E' un gran carattere Ascia e Monica De Gennaro Tutti i cibi Luvia Sparcini Allora Limoco è... Speriamo che mica oggi E... Spaziale La Farr E la De Gennaro Secondo me Limoco è fantastica E impareggiabile Io De Gennaro E la Luvia Stratosferiche E Giuseppe E Giuseppe La Luvia E De Gennaro Sono le migliori E la Wolos La squadra è fantastica Molto fantastica E' un onore venire qua a vedere Perfetto La... La Lumia E... 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 La Wolos Com'è? La Pannezzatrice La Wolos La Wolos Ok Bravissime E simpaticissime La Wolos E... La... E... La Wolos E... La Wolos E... La Wolos E... E... Penso... La De Gennaro Limoco è... Passione E divertimento E... La Pantera Con... Del cuore Moki, Asha. Moki è la squadra, volo se il Gennaro. La squadra del cuore, me la porterò sempre nel cuore. De Gennaro, strepitosa e AC, grandiosa.